Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 26 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Mercoledì denso di contrarietà. Contrarietà in cielo e di riflesso anche nella vostra anima. A incoraggiarvi il trigono acquatico in gioco tra Nettuno, il Sole, Mercurio e Venere, che vi parlano di sentimenti appassionati, forti emozioni, viaggi avventurosi, tutti da provare insieme alla persona del cuore, meglio ancora se si tratta della New Entry da esplorare come la foresta vergine. Un'autentica meraviglia, se non che a rompervi le uova nel paniere, ecco l'antipatico binomio Luna-Plutone in quadratura, sia al vostro segno, sia a Urano e Marte, non si limitano a tenervi d'occhio, se l'occasione si presenta vi sparanno contro volentieri. Da un lato dunque i sogni e le aspettative più dolci ardite, dall'altro la bieca realtà, che non si discosta da quella degli altri giorni, sebbene alcuni tra i vostri colleghi siano già in vacanza. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanze in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. L'amore si concede una pausa, certe volte siete troppo intransigenti e quindi esigenti. Per questo oggi Venere allenterà l'influsso positivo concendendovi il giusto tempo per riflettere. Oggi un vostro parente, o un amico fidato, vi svelerà qualcosa che non conoscevate. Prendete tutto come un dono dal cielo e ringraziatelo. Se la monotonia vi sembra insopportabile non avete da fare altro che cercare di rendere la vostra giornata migliore con qualche diversivo. Chi cerca un lavoro oggi potrebbe averne tutte le probabilità di trovarne uno soprattutto i nati di domenica tra le 11 del mattino e le 14 del pomeriggio. Mercurio sembra ostacolarvi oggi in tutti i modi ma è solo apparenza, in serata avrete dei buoni momenti. Evitate di accettare nuove richieste di amicizia sui social network. A volte vi perdete in un bicchiere d'acqua, siate più risoluti e mantenete fermo il vostro proposito a tutti i costi. Presto avrete delle novità importanti. Oggi nella vostra chat preferita potreste divertirvi di gusto, ma fate attenzione alle persone interessate che sperano solo quello. Qualcuno nell'ombra vi sta pensando e vorrebbe farsi sentire e riprovare con voi, la scelta sta a voi se incentivarlo a venire fuori oppure lasciarlo nell'oblio. Muoversi nella direzione giusta è prerogativa di buon senso, Giove non mancherà di assistervi oggi in questo. Soprattutto in amore perché con venere in buon aspetto di occasioni de avrete. Anche troppe. Alcuni corpi celesti viaggiano a vostro completo favore. In particolare Saturno, Nettuno in pesci, il Sole, Mercurio, Venere in cancro. Plutone, Marte e Urano viaggiano in segni a voi contrari. Ambigui quindi sono i moti planetari che si presentano per voi oggi. Si possono descrivere come il classico nulla di fatto per colpa del tipico, un colpo al cerchio o no alla botte. È bene che voi sappiate di questa singolarissima combinazione astrologica che vi contraddistingue. Punto. È uno di quei giorni che, canta Ornella Vanoni, oggi l'incipit della canzone è lo stesso, cambia il proseguo della strofa. A voi infatti sotto tiro della luna acquariana in quadratura e di Urano e Marte all'opposizione non prende la malinconia, piuttosto la follia, l'insofferenza a doveri e ai legami, la voglia e l'ispirazione che non aspettano, tutto e subito o niente. Amore ed Eros. Tensioni in coppia, se non siete ancora andati dall'avvocato divorzista ci state andando vicino, anche le rispettive famiglie, però, hanno le loro colpe, a furia di caricare il basto il ciucco soccombe, oppure, e questo è il vostro caso, dà una scrollata al carico e corre via galoppando verso la prateria, convinto di essere diventato un puledro. I pianeti che parlano di passione, Plutone e Marte, sono entrambi in cattivo rapporto col vostro segno. Fate attenzione a non esagerare in pretese, specie se fate parte del cosiddetto sesso forte e se appartenete alla prima decade. I ragazzi del segno che appartengono alla terza decade, con un romantico Nettuno in pesci vivono momenti di trasporto nelle relazioni che hanno di recente intrapreso. Ottime le indicazioni per gli scorpioni single della seconda decade, con Saturno benefico, che permette loro di tenere la guida del rapporto se sono in coppia. Lavoro e denaro Che noia il solito trantran che vi fa sentire in prigione, ma che distetta trovarsi alle prese con clienti capricciosi che vi fanno impazzire per accontentarvi e poi se ne escono dal vostro negozio o dal vostro locale inviperiti e scontenti. Ai ferri corti col socio, esplosivo quanto è più di voi, evidente che avete bisogno di una vacanza, quantomeno ne hanno bisogno i vostri nervi. Faticose le pulizie di casa, soprattutto la libereria, sacrario del vostro appartamento, al quale dedicate tutte le vostre cure, ma la polvere di voi se ne fa un baffo, si accumula lo stesso facendovi disperare. Marte e Urano sono contrari e possono farvi distratti, specie se siete nati nella prima e terza decade. Svolgete una professione legata alla comunicazione, all'insegnamento, alla trasmissione delle informazioni. Fate attenzione a come vi muovete oggi. Benessere Umore sotto i tacchi, tra spasmi muscolari, tensioni ed insonnia vi sentite uno straccio. Bel modo di concludere la giornata così impegnativa, a casa infilando sotto il tavolo scoprite di non avere appetito, quanto a chi condivide con voi la cena, basta un'osservazione poco felice per farvi saltare la mosca al naso. Forse non ve ne siete accorti, ma siete nervosissimi, quasi isterici, altro che spaghetti allo scoglio, per voi ci vorrebbe una mega tazza di valeriana e camomilla. Per lei, ai vostri figli concedereste la luna, ma qualcosa vi frena, i vostri sentimenti vi fanno paura. Troppe concessioni rendono molli, ma non dimenticate che troppo poche rattristano. Ricordate che il segreto sta nella via di mezzo. Per lui, artisti, quando l'ispirazione parte bisogna seguirla come un bambino rincorre l'aquilone e oggi vi sta trascinando in giro tra epoche storiche, paesaggi, situazioni completamente diverse tra di loro, ma proprio per questo intriganti. Che fatica, però, seguire il volo, non vedete l'ora di potervi fermare per dare voce e colore ai vostri sogni. Colore delle emozioni, blu oltremare Barometro dell'umore, variabile Pagellina del giorno Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6 Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.